Allora intanto buongiorno a tutti grazie di essere intervenuti. Bici Insieme arriva all'undicesima edizione, nacque col nome Dona la Vita che rimane ancora adesso insieme a Bici Insieme perché è una pedalata in amicizia, pedaliamo senza l'assillo del cronometro oggi per una buona causa al sostegno dell'Associazione Valdostana Autismo. Tutto ciò che riusciremo a raccogliere attraverso la quota di iscrizione, detratte le spese di organizzazione, verrà versato a favore dell'Associazione. La stagione ormai entra nel vivo proprio oggi con la pedalata che organizziamo noi. Per le Aquile un grande appuntamento agonistico fra qualche giorno, il 20 maggio, saremo a Cesenatico per la Nove Colli, la più importante delle gran fonde italiane, ma ci prepariamo anche a importanti eventi organizzati dal nostro team. Il 15 luglio organizziamo la Antei Sant'Andrea Cervigna in occasione dell'ultima tappa del Giro della Valle. L'ultimo evento, l'evento clou della stagione, per noi il 29 di luglio, la Car Lignan, il Memorial Check-On, che quest'anno giunge all'ottava edizione. L'evento clou della stagione, per noi, 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 per noi. L'evento clou della stagione, per noi, per noi, per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.